Simone, piccolo stop dal campionato, testa la Coppa Italia, l'entella è arrivata sino alla semifinale, una partita importante contro una squadra forte. Sì, è un test importantissimo, ci teniamo tantissimo a fare bene, domani sarà una bellissima partita, però noi vogliamo arrivare fino in fondo. La squadra sta bene, otto gol nelle ultime due partite, ci racconti anche un po' il morale dopo la vittoria con il Rimini? Sicuramente noi a livello di morale siamo sempre stati bene anche quando i risultati non sono arrivati, perché sappiamo le nostre forze, quindi dobbiamo solo continuare così e le cose verranno automatiche. Tornando alla Coppa Italia sarà il primo atto di una gara tra andate e ritorno, quindi 180 minuti, cambia qualcosa nell'approccio, nella preparazione della partita, come te lo aspetti la gara di domani? Allora, domani sarà la partita, pensiamo subito solo a questa quale domani, poi quando sarà il ritorno ci penseremo.